Musica Buonasera, bentrovati in diretta con il telegiornale di Telebarin. In primo piano la cronaca. Sono stati identificati e arrestati i due minorenni ritenuti responsabili della rapina in una gioielleria in via Giulio Petroni. Sentiamo. Sono entrambi minorenni, 15 e 16 anni, i due baby rapinatori che due settimane fa hanno svaliggiato la gioielleria Comprooro in via Giulio Petroni a Bari, rubando merce per 30.000 euro e terrorizzando la commessa. I due minorenni si trovano ora agli arresti domiciliari al termine delle indagini condotte dalla polizia. I due erano entrati a volto scoperto nel negozio e, seppur disarmati, avevano minacciato la dipendente, costringendola prima ad aprire la vetrina e poi a farsi consegnare i preziosi esposti. Subito dopo l'avevano trascinata all'interno della gioielleria, rinchiudendola in uno spazio delimitato dalla blindatura. Poi sono scappati lasciandola all'interno e dirigendosi verso Carbonara. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la commessa chiusa nella blindatura. Immediato anche l'intervento degli agenti della sezione Falchi della squadra mobile, coordinati dal dirigente Filippo Portoghese, che hanno interrogato i testimoni e hanno visionato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli accertamenti degli investigatori si sono subito concentrati sui due ragazzini già noti alle forze di polizia, ieri davanti al GIP del Tribunale per i minorenni la convalida del fermo. Sabato da Bollino Nero anche sulle strade pugliesi. A Bari la polizia stradale tiene sotto controllo con grande attenzione la circolazione in tangenziale, considera più gestibile l'aumento comunque consistente dei mezzi in autostrada. La situazione è con Maricla Pastore. Vi aspettavate più coda? Era previsto Bollino Nero? Sì, invece no, è andata bene, benissimo. Da dove viene? Da Terni. E dove andate? A Polignano. Dove andate? A Maria Lugento. Ecco, è la prima volta? No, la seconda. Ecco, come mai questa destinazione? Da dove arrivate? Da Roma, perché il mare è bellissimo. Lecce, provincia. Da dove venite? Da Monza. Ah, quindi è una lunga strada. Potrebbe essere più lunga perché stiamo andando a prendere i figli, quindi andiamo lentamente. Da Vienna. Vienna. Ok, vi aspettavate più coda? Spiego di no. Sfilano le prime code, seppur ancora contenute, su strade e autostrade pugliesi. Per il primo weekend di agosto era stato previsto un esodo estivo da Bollino Nero, in particolare nella mattinata di oggi, sabato 3 agosto, con gli automobilisti già muniti di navigatori, bagagli e tanta pazienza. Destinazione? Mare. Eppure il casello di Bari Nord, in direzione sud, ha registrato finora un traffico per lo più scorrevole, sorprendendo molti vacanzieri diretti verso le località di villeggiatura. Tuttavia, secondo gli addetti e i lavori, la situazione potrebbe peggiorare a partire dal primo pomeriggio. Resta attenzionata la statale 16, con la polizia stradale che tiene costantemente sotto controllo la circolazione attraverso i monitor nella sala operativa. Qual è la situazione per questo primo weekend di agosto? Allora, abbiamo un Bollino Nero nella giornata odierna e Bollino Rosso domani. Stessa situazione per il prossimo weekend del mese di agosto, ovviamente. Quindi una situazione che prevede una progressiva intensificazione del traffico veicolare, sia nel circuito autostradale, sia direi soprattutto sulla viabilità ordinaria. Con particolare riferimento alla statale 16, in carreggiata sud, a causa dell'arrivo dei vacanzieri presso le città balneari della nostra regione. Cambiamo argomento. Continuano le segnalazioni dei residenti del quartiere Libertà sul degrado cittadino, in particolare nei giardini. Siamo andati a verificare con Letizia Giostra. Una fontanella staccata, buche sull'asfalto e il verde che invece di crescere sui prati, fuori esce dai tombini. Sono solo alcune delle criticità emerse durante il nostro viaggio nel quartiere Libertà. Siamo stati in piazza di sfida di Barletta, in piazza Maugeri e in piazza Garibaldi, dove la scarsa manutenzione ha reso queste aree poco agibili. Il problema è uno soltanto, non solo a Barletta, in Italia, ma se va un pallone qua dentro, qua giocano i bambini pomeriggio e d'estate, i bambini giocano da una parte all'altra. Se una palla va dentro, a qualche genitore si fugge di vedere il bambino dove corre, arriva dentro, per il bambino prendere la palla, questo succede dopo. Rifiuti, cavie elettrici e recinzioni rotte, dove sconosciuti hanno lanciato pietre sui parabrezza delle automobili, creando quindi una situazione di rischio sulla sicurezza. Da piazza di sfida di Barletta siamo arrivati al parco Maugeri, ecco qua il degrado di parco Maugeri. E poi graffiti su nuove costruzioni e fontane usate come spazzatura. Il comune deve istituire delle squadre di pronto soccorso, si è rotto un tombino nel parco, devono intervenire nelle 24 ore, nelle 48 ore, nell'arco di una settimana, ma devono intervenire. Un detenuto ha tentato di evadere dal carcere di Bari, un episodio non isolato purtroppo negli istituti penitenziari pugliesi e dovuto soprattutto, riferiscono i sindacati, alla carenza di agenti. Ne abbiamo parlato con Ruggero D'Amato, segretario regionale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Scavalca il passeggio della seconda sezione del carcere di Bari e viene beccato sul muro di cinta del penitenziario. È il tentativo di evasione di un detenuto avvenuto il 2 agosto nel capologo pugliese, che si è fortunatamente rivelato un buco nell'acqua grazie all'intervento degli agenti. Le dinamiche dell'episodio sono al momento poco chiare, ma non si tratta di un caso isolato. Solo due settimane fa un altro tentativo di evasione si è consumato nel carcere di Foggia e a febbraio di quest'anno due detenuti sono riusciti a fuggire dal penitenziario di Trani. Un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio dovuto alla mancanza di personale negli istituti penitenziari a Bari. La carenza si attesta attorno alle 80 unità, mentre in Puglia attorno alle 1000. Problematiche denunciate da tempo in memore dal sindacato di polizia OSAP. Questo è dovuto tutto alla carenza di personale e alla carenza strutturale. E' i turni massacranti che fanno i poliziotti e le poliziotti penitenziari, che oggi si attestano dalle 10, 12, 14, 24 ore consecutive. Sono turni disumani che non sono più sopportabili per una categoria così delicata che deve produrre sicurezza e rispetto delle norme all'interno dei penitenziari. La politica è assente e totalmente scollata dalla realtà. Noi abbiamo un viceministro, Sisto, che è pugliese. Abbiamo un sottosegretario alla giustizia con delaga della polizia penitenziaria, che è venuto molto volte a fare passare in Puglia. Ma sono scollati totalmente dalla realtà dei penitenziari. I penitenziari sono abbandonati a se stessi, oggi sono piazze di spaccio e sono punti di aggregazione criminali. Ma non dovuto perché la polizia penitenziaria non è in grado. Non si viene messa in grado di poter produrre sicurezza e di poter produrre quello che il compito istituzionale gli compete. Bari è un cantiere a cielo aperto in attesa della realizzazione del Parco Costa Sud. Sono due i lotti su cui si sta lavorando al momento a Torre Quetta in zona Bella Vista. Vediamo a che punto è la situazione. Bari è in fermento a livello progettuale. È un cantiere a cielo aperto in piena attività anche sotto il sole coccente di agosto. Si è entrati ormai nel vivo dei lavori del Parco Costa Sud, un'importante opera finanziata con 75 milioni di euro di fondi complementari al PNRR che riuscirà a collegare il cuore del capoluogo con Torre a Mare, trasformando il volto del lungomare barese entro il 2026. Al momento gli operai sono a lavoro sulla spiaggia di Torre Quetta, nell'area della concessione De Maniale, subito dopo l'ultimo chiosco e nella zona Bella Vista. Si tratta di due dei sei lotti previsti in questo progetto che mira a realizzare un parco lineare lungo ben sei chilometri. Il cantiere è presente nei pressi del Lido Torre Quetta, costretto da circa un mese al restringimento della carreggiata sul lungomare di Cagno a Brescia, limitazioni indette da un'ordinanza comunale che resterà in vigore fino al 30 novembre prossimo. Tuttavia i disagi alla circolazione stradale in quest'area non fermano i tanti residenti e turisti che decidono di recarsi sulla spiaggia cittadina per godersi una giornata di mare. Diventerà Torre Quetta davvero una perla a sud di tutto questo grande parco che il comune e che l'amministrazione sta realizzando. È previsto il rifacimento di tutto proprio dalla pavimentazione che diventerà drenante, permetterà il recupero delle acque, delle dune verdi, i chioschi verranno abbattuti e rifatti. Davvero un bel traguardo che Bari potrà raggiungere. Calabrese ci ha inoltre tenuto a placare le polemiche in merito ai ritardi dell'installazione sulla spiaggia dei Tre Pontili per consentire ai bagnanti con disabilità di accedere al mare. Il secondo è finalmente stato montato in questo weekend, come promesso nei giorni scorsi anche dall'assessore ai lavori pubblici Nicola Mele. Ieri mi hanno consegnato il secondo pontile, quindi ad oggi, 2 agosto, 3 agosto, abbiamo due pontili perfettamente funzionanti di cui uno dotato di due rampe per i disabili e uno senza rampe, solo con una bella scarinata sul davanti. Sono gli anziani rimasti sole in città ad avvertire maggiormente il disagio della solitudine nei mesi estivi, ma a Bari non mancano i servizi come quello offerto dalla cooperativa GEA. Sentiamo. Le signore Chiara, Tine e Porzia sono soltanto alcuni dei volti presenti all'interno della cooperativa GEA, il centro anziani che sta regalando un'estate diversa ai suoi ospiti che hanno deciso di trascorrere i loro pomeriggi insieme agli educatori tra balletti e karaoke. A me piace cantare e penso come tutte le altre persone che stanno. Cantare è un hobby, l'ho sempre avuto da bambina, da ragazza cantare. Mio padre mi ha fatto studiare perché sento la musica veramente nell'anima e infatti quanto canto mi concentro. Chiusi in casa questi anziani non ci vogliono stare perché la solitudine è la loro più grande paura. A loro piace tantissimo, poi soprattutto per gli anziani che non hanno altre opportunità e quindi uscire, andare in vacanza, al mare. Il pomeriggio cerchiamo di trattenerli con le attività ludico-ricreative. Ecco che quindi si danno appuntamento in Via Dante per stare in compagnia, cantare Tussina Cosa Grande di Domenico Modugno e per cucinare i loro piatti preferiti, oltre che per incontrare i loro fidanzati perché l'amore non conosce età. È un punto di incontro, ti ritrovi con gli amici, invece di rimanere a casa da sola siamo vedovi, ci siamo incontrati, ci siamo innamorati, stiamo insieme e stiamo meglio, invece di rimanere sola. A tutti lo stai dicendo! Vado da cinque anni e per me è tutto, una famiglia, tutto. Ti piace cantare allora? Adesso sì, molto. E in tanti decidono di partire, ma molti baresi preferiscono invece restare in città. In questo servizio abbiamo raccolto le voci di alcuni bagnanti. C'è chi parte, ma c'è anche chi resta. Sono molti i cittadini che decidono di trascorrere le vacanze estive a Bari, alcuni per comodità, altri per ragioni economiche o familiari, altri ancora per scelta. Mentre la gente, il primo weekend di agosto, inizia ad andare verso altrimenti, lei sceglie di restare a Bari? Io sto bene a Bari, è un bel posto, è una bella spiaggia organizzata, bene, si sta bene. Poi ci sono altri motivi che uno non può andare fuori, economici, personali, dipende. Siamo baresi, ci dedichiamo un po' di tempo libero il sabato. Siamo di questa spiaggia qui vicino, a vicino casa, quindi approfittiamo di questo. In effetti si sta bene qui, è un posto dove comunque si passa una mezza giornata in tranquillità, in economia anche. Perché no, insomma, restare a Bari poi magari ci sia lontana dopo, in un periodo in cui gli altri si entrano. Come si sta a Bari? Benissimo, ottimo, veramente se devo dare un voto adesso, io non voglio dire 10 perché è esagerato, però un bel 8 ci sta, qui a Torrequetto, poi altri posti non lo so, qua ci sta benissimo. Quindi vacanza in città ci sta? Sì, senz'altro, perché se sa quanto costa un mezzo litro d'acqua all'altra parte, 7 euro, 7 euro, mezzo litro d'acqua. Mio figlio è andato, deve dire, non è positivo, i servizi che mancano, i bagni, fanno veramente, non voglio usare dei termini volgari, perché passano gli anni, i servizi sono da, per non ridire proprio. Al contrario, io devo dire che la gente che lavora qua, su Torrequetto, io vedo, ma se lei va nei bagni, sia di donne, sia di uomini, è qualcosa di impossibile. Però lei sceglie comunque di venire qui. Che alternativa abbiamo? Mi credo. Siate felici, siete a Bari. Cresce di circa il 7% il turismo in Puglia con flussi stranieri in arrivo, in aumento del 40%. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, sentiamo l'intervista. Quattro turisti su dieci in Puglia sono stranieri, per lo più provenienti da altre capitali europee, ma anche da Stati Uniti, Sud America e Australia. Si confermano, per esempio, mercati ormai consolidati per noi, la Germania e la Francia, che continuano a crescere, ma si consolidano sempre di più mercati come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con alcune considerazioni importanti che vanno fatte su mercati del tutto emergenti. Pensiate, per esempio, ai flussi sempre più in crescita di mercati europei come la Polonia. Gli italiani nel primo semestre registrano una crescita in termini di arrivi, quasi il 6%, sono stabili invece in termini di presenze e le previsioni che abbiamo per luglio e agosto ci raccontano di un mercato che sarà tendenzialmente in linea con gli stessi due mesi dell'anno precedente. Cresce dunque in maniera costante in termini di arrivo il turismo in Puglia con un aumento di circa il 7%. Nel primo semestre del 2024 sono stati registrati flussi stranieri in termini di arrivi di oltre il 20%, 15% in termini di presenze. Questo è un dato assolutamente significativo che ci dimostra come la nostra destinazione sia una destinazione assolutamente molto attrattiva. Naturalmente questo dato poi va spacchettato per mercati di riferimento, va spacchettato anche per singole destinazioni perché ormai il sistema pugliese ha la possibilità di avere un'offerta davvero variegata dal nord del Gargano a sud del Salento e poi vanno considerati i vari mercati di riferimento. Una delle constatazioni che si può fare banalmente sempre sul primo semestre è che è preponderante la crescita sui mercati stranieri, questo ci dimostra che la destinazione Puglia è ormai una destinazione internazionale. Gaetano Serafino, lo storico farista del quartiere San Cataldo da due anni in pensione continua a coltivare la passione per i fari e così si racconta alle nostre telecamere. L'avvento del GPS non potrà mai ledere l'imponenza ed il romanticismo di quelle luci del porto che soprattutto nelle notti buie, col mare in tempesta, riportando le navi a riva, vanno a ritmo con i battiti del cuore dei capitani di vedetta. Oggi si chiamano assistenti tecnici nautici, non più faristi, ma Serafino Gaetano, storico guardiano del faro, definito patrimonio del quartiere San Cataldo, racconta l'importanza di ogni faro, tutti diversi e ognuno con il proprio linguaggio. Il faro e i segnalamenti marittimi sono sempre importanti perché non si sa mai, la tecnologia o un'embarcazione può, il GPS si può rompere. Mi diceva sempre un pescatore, mi diceva che sì, noi andiamo col GPS, però quando vediamo il faro è una cosa sicura che si vede e quindi ci tranquillizziamo. Una vita vissuta tra il faro borbonico dove ci giocava sin da bambino a 5 anni e il faro di San Cataldo dove sono nati i suoi figli. Gaetano ha ereditato la sua passione da suo padre Michele, guardiano al faro borbonico dal 1955 al 1961 e al faro San Cataldo dal 1970 al 1987. Anche mio padre faceva il guardiano del faro e quindi ho vissuto per 69 anni in un faro. Grazie all'associazione Mar di Levante presente al faro borbonico si adopera ancora per rivalutare i fari presenti a Bari. Si legge di lui nel pannello dal titolo La Conca degli Angeli, posto a San Cataldo dove ha vissuto per oltre 40 anni. Una spiaggia piccola ma potente capace di illuminare il cammino dei viandanti proprio come il faro per i marinai guidati alla salvezza tante volte da Gaetano Serafino, lo storico farista del quartiere. E sono tante le navi che ha accompagnato a Riva. Gli albanesi che sbarcavano, era una cosa che non avevo mai visto, c'era gente che si buttava in acqua dalla nave Blora, proprio qui nel porto di Bari, addirittura era attaccata a quel molo lì. Questa è una passione, più che un lavoro. Uno lo deve amare perché il mare è una cosa indescrivibile che non si può, ma nemmeno... Cioè io sono innamorato del mare e dei fari. Nino Cuor di Leone. Il titolo del libro della scrittrice Chiara Zotti è la presentazione insieme con l'autrice, anche l'attore Antonello Loiacono. Un libro per far sentire meno sole le persone che stanno affrontando momenti di fragilità ai protagonisti della fiaba, sono un leone scappato da un circo e un timido coniglio di nome Nino. Il racconto porta la firma della scrittrice Chiara Zotti che attraverso la figura dei due animali ha voluto trasmettere quella forza d'animo necessaria per trovare il coraggio di cambiare. Il leone, un aiuto professionale per aiutare il coniglio ad uscire dalla tanna dentro di noi. La favola è stata presentata in una sala piena di vivaci bambini e di pelusci di conigli. Questo libro può essere letto e condiviso anche dagli adulti perché tutti siamo un po' conigli ma con un'eccezione positiva perché la paura in realtà è un sentimento che appartiene a tutti ma che quando noi l'attraversiamo si trasforma in coraggio. Insieme all'autrice anche l'attore Antonello Loiacono per raccontare insieme alla scrittrice una storia per i più piccoli per dare energia anche ai più grandi. Sostanzialmente nasco Nino ma sto lentamente con grandissima fatica, sto cercando di diventare Riccardo. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Andiamo a Foggia dove è entrata in vigore una ordinanza sindacale per combattere il preoccupante fenomeno del conferimento di immondizia nel territorio comunale da parte di non residenti provenienti dai comuni confinanti. Ci dice tutto Nicola Saraccino. È in vigore a Foggia l'ordinanza sindacale che vieta sul territorio comunale il cosiddetto turismo dei rifiuti ovvero il conferimento dell'immondizia nel capoluogo Dauno da parte di non residenti provenienti da comuni confinanti. Si tratta di un fenomeno preoccupante e dilagante che avviene in più punti della città specie quelli in corrispondenza di uscite verso altri centri della provincia. Consente alla polizia locale o alle altre forze d'ordine di poter combinare sanzioni a persone che evidentemente sono residenti e domiciliati altrove ma che comunque per una questione di comodità dovuto al fatto che magari da loro vige una raccolta differenziata porta a porta che è più impegnativa e ovviamente esige anche un conferimento corretto preferiscono accumulare busse di rifiuti indifferenziati e venirli tranquillamente a sversare nel nostro territorio. Questo è inaccettabile e quindi abbiamo offerto uno strumento alle forze di polizia per poter sanzionare questi cittadini che dovrebbero essere civili nel loro territorio e altrettanto ancora di più nei territori di altri cittadini. L'abbandono irregolare e indiscriminato di rifiuti solidi urbani ha preoccupanti ricadute per l'igiene urbana, la salute pubblica, il decoro urbano e l'ecosistema diventando vere e proprie discariche a cielo aperto che attraggono ratti, blatte e animali randaggi. Adesso ci spostiamo a Lecce dove il sindaco elimina le piste ciclabili e i ciclisti protestano. Ci dice tutto Fabio Serino. La nuova amministrazione guidata dal sindaco Adriana Poli Bortone mantiene le promesse fatte in campagna elettorale e comincia a dare attuazione al suo programma. Primo punto smontare le piste ciclabili. Ovviamente arrivano le polemiche attraverso i social in cui si sottolinea l'importanza di non tornare indietro e incoraggiare l'utilizzo delle auto e ancora si legge mentre l'Europa va avanti, Lecce torna indietro e si allontana da ogni obiettivo di sostenibilità urbana e qualità della vita per i propri concittadini. Lo smantellamento della pista ciclabile è un atto di cattiveria nei confronti della città. Questa mattina decine e decine di ciclisti si sono dati appuntamento per una manifestazione in via 25 luglio per esprimere il proprio disaccordo. La polizia locale su via 25 luglio intanto continua a multare le auto che sostano nello spazio dal quale sono stati rimossi i cordoli della pista ciclabile. L'amministrazione comunale in una nota ha ribadito che la rimozione della pista ciclabile è stata dettata solo dalla necessità di garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, non certamente per essere spazio da occupare più o meno a lungo con le auto. E a Taranto è tutto pronto per la seconda edizione del Taranto Beer Fest, il più importante evento di questo tipo organizzato sul territorio. Angelo Ingenito. Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, che ha registrato oltre 20.000 visitatori, il Taranto Beer Fest torna al Parco Cimino, la manifestazione più significativa di questo genere nella nostra area. La formula vincente rimane invariata, anche la seconda edizione del Taranto Beer Fest si svolgerà in quattro serate, da giovedì 8 a domenica 11 agosto, con inizio alle ore 20, nell'area antistante il Parco Cimino, che sarà completamente recintata per l'occasione e messa a disposizione dal comune di Taranto in collaborazione con Chima Mobilità. Saranno quattro serate imperdibili, presentate dalla cantautrice e producer Chiara Turco, ognuna caratterizzata da un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini. Un mercatino dell'artigianato è una vasta area dedicata al cibo e alle bevande, con oltre mille posti a sedere e numerosi stand per assaporare le specialità gastronomiche di mare e di terra. E naturalmente la vera protagonista dell'evento, 45 varietà di birra alla spina, sia nazionali che internazionali, comprese opzioni gluten-free ed analcoliche. Grazie alla collaborazione di Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco, ogni sera sul grande palco dell'area spettacolo del Taranto Beer Fest, si esibirà un artista di cabaret di fama nazionale, da Zelig, Stefano Chiodaroli e Vincenzo Albano, fino alla popolarissima Valentina Persia ed al pugliese Gianni Ciardo. A seguire, ogni serata sarà animata da concerti di importanti band, a Ple La Class, a Di Capongo, Los Locos ed Emanuele Montella con la sua band. Le serate si concluderanno con un DJ set, con i migliori professionisti del territorio per valorizzare i talenti locali. E per questa edizione del Telegiornale Tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Ben trovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica con l'anticiclone. a interessare ancora la Spagna, sud della Francia, mentre le correnti oceaniche si muoveranno con moto ovest verso est, dal mare del nord verso l'Europa orientale. In dettaglio l'Italia che vedrà a tempo in prevalenza stabile, i temporali saranno più a nord, a nord delle Alpi, però qualche fenomeno ancora interesserà l'arco alpino e l'appennino, fenomeni localizzati e molto brevi. In sintesi la mappa dell'Italia con il sole in pianura e sulle zone di mare, brevi temporali pomeridiani in montagna. Il caldo sarà sempre un caldo intenso dappertutto, ma ha valori un po' più bassi rispetto alla settimana, che ha visto anche picchi di 40 gradi al centro sud, quindi sarà un caldo intenso ma più vivibile, più sopportabile. Tutti i dettagli e gli approfondimenti per i prossimi giorni, scaricando l'app di Trebi Meteo. Grazie.